Si muove qualcosa sulla faccenda dei sottoservizi perché dopo sette mesi di stop il Comune ha scelto la commissione composta da tre tecnici che avrà lo scopo di velocizzare l'ottenimento delle autorizzazioni e affrontare il nodo viabilità, cosa che aveva richiesto la stazione appaltante, cioè la Gran Sasso Acqua. Questo permetterà di partire finalmente con il secondo stralcio. Finora soltanto il primo stralcio è terminato. A febbraio era stata firmata una delibera per rimodulare i lavori e modalità di esecuzione, cioè se scegliere di continuare con i tunnel o usare i tubi di minore impatto. Il Comune ha scelto i suoi rappresentanti che saranno Dino Tarquini, Carlo Bonino e Nivio Stefanucci. In realtà il tavolo tecnico esisteva da tempo. Finalmente trova esecuzione le nostre richieste fatte sul tavolo comunale che ci consentirà di accelerare la cantierizzazione dei lotti del secondo stralcio dei sottoservizi che devono essere portati avanti. A brevissimo, quindi inizierà il secondo lotto. Stiamo lavorando anche trovando soluzioni giuridiche per quanto riguarda gli altri lotti dei sottoservizi, intervenendo in riduzione laddove ci si trovino ostacoli per il fatto che la città ovviamente ha ritornato fortunatamente a vivere sulle zone interessate. Per fare il punto sullo salto dell'arte i lavori del primo stralcio da 40 milioni di euro sono stati completati da tempo con i tunnel dove passano passeranno i servizi gas escluso. Il secondo stralcio, che è diviso in cinque lotti, a breve partirà, scegliendo la migliore soluzione ogni volta. Proprio su questo voi avevate avanzato delle ipotesi, la possibilità di fare anche delle modifiche progettuali, di utilizzare tubi meno impattanti. Ecco, da quel punto di vista come si è risolto? Sì, ipotesi che stanno diventando realtà, devo dire, grazie al buonsenso e alla collaborazione di tutti da parte delle ditte aggiudicatrici, anche del lavoro fatto nelle commissioni consigliari. Per questo mi sento di ringraziare anche i membri dell'opposizione della maggioranza che insieme mi hanno aiutato a caldeggiare queste richieste e a far sì che diventassero finalmente fatti concreti. Quindi si sta intervenendo a seconda delle situazioni in maniera disarticolata, a seconda delle situazioni che incontriamo, interveniamo facendo le opere di riduzione come per esempio su Biastrinella o su altre zone dove ormai la città rivive già da parecchi anni. Grazie. 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 Grazie.